E' un caloroso benvenuto a tutti, ci siamo quasi, i giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatori da un momento all'altro. Siamo prontissimi per iniziare questa telecronaca, un saluto da Fabio Gherisse e Luca Marcheggiani. Un saluto a te Fabio e a tutti i tifosi sperando di assistere ad un grande incontro. Tutti concentrati e la partita è inizio. L'arbitro assegna un calcio di punizione interessante. C'erano diversi compagni punti là davanti, il cross però è stato impreciso. Troppa fretta di eseguire il cross in questo caso. Chiriches prova la giocata nello spazio, intercetta il passaggio pericolo. Ultimo passaggio impreciso, poteva essere una buona opportunità. Ha cercato di sfondare per vie centrali ma non ha avuto fortuna. Interessante azione sulla fascia destra. Prova il filtrante. Colpisce il pallone. Peccato perché si era venuto da creare un'occasione interessante. I palloni in profondità sono difficili da leggere per questa difesa ma non possono concedere così tanto agli avversari. Questi per loro sono segnali importanti su cui devono costruire l'andamento della gara. L'Axalto. Bella palla ad allargare il gioco. Cross. E Genoa ha offerto un'ottima prestazione all'ultimo incontro. Soprattutto dal punto di vista trattivo. Sì, mi sembra evidente. Ha deciso di alzare il paricentro della squadra nel momento giusto. È stata una scelta coraggiosa ma che alla fine è stata fregnata con un risultato positivo. Pagoletti ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Pagoletti. Pagoletti. Spazza via. Cerca di lanciare il compagno. La difesa se la cava con grande mestiere. Vuole la profondità. Pagoletti. Pagoletti. Compe l'azione. Cerca spazio. Ha provato l'azione individuale senza successo però. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. Pagoletti. ottima progressione palla al piede pavoletti pavoletti potrebbe essere un contropiede interessante questo peccato la mette in avanti ottima pressione la sua palla recuperata Bogdan Stanku prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione cerca la profondità sulla fascia se ne va palla in mezzo Bale grandissima giocata di Bale e nonostante la pressione della difesa non ha perso la calma e ha messo la palla in rete è un pessimo cliente per qualsiasi difesa l'ha appena dimostrato hanno provato a ostacolarlo in tutti i modi ma lui si è liberato di prepotenza gran gol gran gol star 1-0 Ora avranno sicuramente meno pressione addosso Ma devono continuare a lottare Pavoletti Reconquista la palla Rocco morbido Pavoletti Ha fatto il lancio sulla fascia Ok cross Anche la conclusione Arbitro che fischia la fine Della prima frazione di gioco Hanno mostrato sprazzi di buon calcio E sono riusciti ad andare in vantaggio Dovranno mantenere questo ritmo nella ripresa 1-0 dopo il primo tempo Partiti E speriamo che questo secondo tempo Possa regalarci grandi emozioni Il vantaggio di 1-0 Non dà nessuna certezza Devono dimenticarsi il gol E continuare a fare il loro gioco Come se fossero ancora sullo 0-0 Prova un traversone dalla tre quarti Niente da fare Non passa Era lanciato in porta Ma la difesa ha chiuso bene Ottimo intervento Ha fisso il pericolo E l'hai riuscito ad anticipare l'avversario Prova a scavalcare il centrocampo Con il passaggio Burdisso La gioca lunga sulla fascia opposta Bel passaggio filtrante laterale Raccoglie e lancia numero In questi casi Difendere con tanti uomini in mezzo È una buona idea Luca? Sì o no? Sì Orientativamente sì Il rischio è che portando tanti uomini in aree Inevitabilmente Scopri Altra zona del campo Tipo per esempio Ti può capitare di restare scoperto Sulla tre quarti? Esatto Esatto Fallo Calcio di punizione L'arbitro si avvicina E postarci il cartellino Che infatti arriva Giallo A giudicare da quanto abbiamo visto Però c'è ben poco da protestare Abbiamo visto gol da distanze anche maggiori Bale Un'occasione Bell'intervento di Vensi Cercherà di metterla in mezzo E la difesa non si fa cogliere in preparata Bell'intervento L'arbitro dice che non è fallo Fallo Nessun dubbio Riescono a mettere fuori Non c'era spazio Sono mancato fuori Sarebbe andato in porta Il difesore però ha trovato il tempo giusto Bell'intervento E passa Cerca spazio Cerca spazio Da il pallone Quindi deve tirare Allontano il pallone Passaggio in avanti Adesso Fabio Adesso Fabio c'è molto movimento sugli esterni E sì Luca L'ho notato anch'io Credo che stiano provando a rallargare gli spazi Per favorire gli inserimenti al centro E per cercare di mettere i palloni pericolosi in mezzo Pallone morbido verso la fascia Pericolo Ezequiel Munoz Con il lancio in avanti Si allunga e trova la palla La butta in mezzo Ha provato a fare tutto da solo La sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati Lancio lungo del portiere In genere A quanto pare Deve dire addio Nella prossima Champions League Prova a verticalizzare Cerca di mettere un pallone interessante in aria Passaggio sulla destra Grande progressione sulla destra Ma i compagni non lo assistono Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica Vanno sfruttate decisamente meglio Vedo movimento a bordo campo Eh sì ci sarà dunque un cambio fra qualche istante Qualche istante sarà tutto finito Palla in out Ci sarà rimessa laterale Palla in out Ehi Prova la giocata nello spazio Pallone Prova la profondità E l'arbitro dice che può bastare Una grande compattezza difensiva E un solo squillo davanti Questo è bastato a vincere la partita È bastata una rete per decidere l'incontro Gli avversari hanno avuto più di un tempo Per raddrizzare la situazione Siamo giunti al termine di questa bella serata di calcio Un saluto da Fabio Chieressa E Luca Marcheggiani Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.